Un saluto a tutti i videoascoltatori d'Italia Medievale, oggi abbiamo il grande piacere di avere di nuovo con noi Barbara Frale perché ha appena pubblicato un altro bellissimo romanzo storico dal titolo I labirinti di Notre Dame, appena uscito per Newton Compton e io come mia abitudine lascio subito la parola a Barbara perché mi interessa capire cosa succede in questo anno del Signore 1300. Buongiorno a tutti, grazie Maurizio anche per i complimenti. Questo libro è l'inizio della saga gotica, sono usciti già due volumi, però questo in qualche modo era proprio la parte iniziale, tutto comincia nell'anno del grande giubileo, ma proprio per seguire la storia perché il giubileo universale fu un evento che cambiò il mondo da molti punti di vista, soprattutto a livello di politica, di intreccio nelle relazioni tra il regno di Francia che era la più grande potenza del mondo del tempo, del mondo occidentale e il papa che era anche egli una grande potenza, non aveva poteri militari, però aveva il potere di scomuncare, quindi di togliere tutto agli altri e quindi questo sviluppava un potere ideologico che era fortissimo. Sappiamo bene che Filippo il Bello e Bonifacio Ottavo non hanno mai legato, neanche in tempi non sospetti c'è stata una buona amicizia tra loro, erano persone di carattere abissalmente diverso e entrambi si sentivano detentori di un potere divino e avevano ragione nella mentalità del tempo perché il papa aveva ricevuto appunto il mandato di Pietro da parte di Gesù tutto quello che tu legherai sarà legato in cielo e in terra e così anche quello che tu scioglierai sarà sciolto. D'altra parte però il re di Francia veniva consagrato con un rituale particolarissimo che faceva di lui una persona sia laica sia ecclesiastica. Per noi oggi questo è un concetto strano noi non non abbiamo questa doppia identità ma nella mentalità del tempo i teologi lo chiamavano persona mixta oppure persona gemina cioè era doppio era un laico ma anche un qualcosa di simile a un prete tanto è vero che veniva unto come un vescovo doveva mantenersi puro dal peccato specialmente il peccato di tipo carnale mai commettere adulterio per esempio perché eh poteva guarire toccava con le mani malati di scrofola e secondo la credenza del tempo li guariva delle guarigioni effettivamente erano registrate poi io non so se era suggestione se era è una cosa spontanea o magari perché queste persone ricevevano oltre al tocco delle mani anche delle lemosi ne mangiavano meglio quindi guarivano ecco è un po' difficile da definirsi però effettivamente i sovrani di Francia imponevano le mani che dovevano essere pure da peccati quindi ehm il re aveva un carattere religioso forte e non accettava le colpe di Bonifacio VIII questo papa così mondano così amante della politica eh in mezzo a tutto questo c'è una religiosa che viene trafugata e viene assassinato un frate per poter rubare questa reglia mentre nel stesso tempo il caso di Roma è la confusione delle griglie che si riversano per il jubileo di questo eh assassino insomma che ehm uccide questo frate Angelelio nello stesso tempo Parigi è assassinato un povero come quello ma un ecclesiastico di altissimo livello l'abbate del monastero di Saint Germain che era una abbazia reale quindi qualche cosa immaginiamo di potentissimo anche a livello politico una un centro monastico ricchissimo senza ombra di dubbio e questi due omicidi sono collegati sono collegati e ehm viaggio sullo sfondo di un'alleanza insieme per la corona eh che eh serve per il recupero dell'impero bizantino che era stato francese per sessant'anni poi era stato riconquistato dai neici quindi c'è qualcuno che vuole impedire questa alleanza matrimoniale ma c'è anche qualcuno che vuole usare questa reliquia per fini politici non solo religiosi perché la reliquia ehm secondo Arnaldo da Villanova che è il medico del papa un grande sapiente e anche un grandioso alchimista quella reliquia considerata da tutti un oggetto sommamente sacro in realtà è un'opera del maligno e scatenerà la guerra finirà per scatenare la guerra tra il re di Francia e il papa tutto questo si svolge in qualche modo intorno a Notre Dame Notre Dame è il cuore eh della Francia non solo eh la cattedrale di Parigi ma è proprio come una grande biblioteca di pietra dove sono eh disseminati simboli questi simboli formano addirittura dei labirinti e e questo è vero cioè noi sappiamo che l'arte medievale parla per simboli e noi ancora oggi siamo stregati dal mistero di questi enigmi che diciamolo non sono tutti risolti alcune cose noi le ipotizziamo però abbiamo dei dubbi all'uomo medievale l'enigma piaceva tanto quindi ha anche cercato di fare in modo insomma che non fosse così banale da risolvere questo carattere enigmatico dell'arte medievale del mondo medievale è qualcosa che a me affascina tantissimo ma credo insomma che sia abbastanza condiviso c'è di mezzo l'alchimia questi simboli eh che parlano tanti linguaggi la rosa è immagine della Vergine Maria quindi siamo in un esoterismo cristiano però la rosa è anche immagine di altro che rimanda al mondo pagano per esempio Venere che ha invece no rispetto alla Vergine Maria tutto altro ambito di significati e poi ancora la rosa rappresenta la trasmissione di messaggi segreti quindi eh insomma ci sono tanti livelli di simboli da leggere e Notre Dame rappresenta il luogo ideale all'interno del quale lo studioso che è un'immagine poi dell'uomo si avventura cercando di decifrare questi simboli e di arrivare infine al messaggio segreto che questi simboli vogliono trasmettere questo è un po' il quadro generale quindi c'è crime possiamo chiamarlo così ehm thriller perché comunque nel medioevo c'è tantissimo intrigo politico non serve l'inventiva eh perché lo troviamo noi lo troviamo nella storia è pieno purtroppo di di delitti e di enigmi legati a un assassinio perché quest'uomo è stato assassinato ehm non appunto dicevo basta seguire la storia in maniera fedele non c'è bisogno di inventare chissà che e poi c'è anche la la passione la passione della regina Giovanna verso il marito Filippo il Bello l'uomo più bello del suo tempo a secondo secondo quello che ci dicono i cronisti ehm io mi sono divertita un po' a immaginare eh l'aspetto fisico di questo uomo e credo che eh l'attore Pierce Brosnan sia proprio una nostra immagine perfetta quindi bello in maniera quasi eh che intimidisce gli altri ma gelido un uomo gelido da ogni punto di vista quasi disumano per la freddezza eh questo è come appariva ma poi però noi eh sia lo storico sia anche il lettore trova i motivi di questo distacco Filippo il Bello è un uomo che ha subito atroci traumi da bambino c'è assassinato eh a otto anni è diventato l'erede al trono quindi lui fino a otto anni ha avuto un'infanta più normale con il tempo perché era un figlio caderno quindi non non diva sottoposto a prove troppo lui la sua educazione la sua educazione aristocratica ma insomma un'educazione portata dal trono cambia tutto e diventa re dal trono perché il fratello maggiore è assassinato con il veleno rischio di morire per il veleno perché arriveranno ad abbinare anche lui e si salva loro inchiuno in una bazzia di monache di clausura proprio perché doveva stare isolato quindi per un bambino abbiamo trama bambino che ha perso la madre da piccolo quindi non ha la tenerezza materna il padre è un uomo eh fragile un uomo addirittura infamato per una relazione omosessuale con il suo segretario quindi un uomo che non ha tempra e e questo ragazzino cresce in mano a dei delle persone dure che lo forgiano come educazione siberiana possiamo dire lo forgiano per diventare un uomo di ferro perché quello è il suo destino senza nessun riguardo per l'infanzia senza nessun riguardo per la sua eh psicologia viene su eh in una maniera terribile e quindi noi scopriamo anche tutte le ferite le fragilità le lacrime e il sangue che sono eh nel passato di quest'uomo e io come storico devo dire questo mh è la parte più bella per me andare a capire il perché non solo il perché dei delitti ma il perché dell'azione della psicologia di questo personaggio che fa di tutto per non apparire è un uomo sempre dietro a uno schermo manda avanti i suoi ministri lui compare bellissimo vestito d'azzurro ha veramente il cielo per mantello perché il suo mantello è tutto di velluto azzurro trapunto di gigli d'oro sembra un cielo stellato ma la tenebra nel cuore la tenebra non perché sia particolarmente malvagio ma perché ha vissuto un incubo per quasi tutta la sua vita e la regina Giovanna che lo ama la follia lo ama perché è bellissimo lo ama perché è intelligente per l'inciso Filippo il Bello era un uomo molto colto i sovrani del suo tempo erano più o meno abbastanza ignoranti lui invece conosceva benissimo il latino la storia quindi è un uomo molto particolare e Giovanna lo ama soprattutto per le sue fragilità a lei che è una donna forte e coraggiosa le ferite di questo uomo sono forse ai suoi occhi persino più belle della bellezza fisica e questo è un po' diciamo il quadro generale il contenuto del libro è una trama vincente e come sempre il lettore troverà anche dei rimandi storici che non sono di invenzione anzi no 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 abbiamo un 95 per cento di storia io ci metto sempre un 90 questa volta abbiamo un elemento in più perché non serviva inventare era già di per sé scoprire che cos'è questa reliquia perché alcuni la considerano un oggetto veramente eh un po' che me l'uomo è un contatto con Dio ma Arnaldo dice perché sta è un'opera del maligno cosa sarà mai questa reliquia e il lettore alla fine lo aprirà Arnaldo aveva ragione non dico altro se non rovino la lettura eh no certo eh anzi qui il punto è che bisogna correre in libreria ad acquistarlo eh ricordo per questo il titolo che è i labirinti di Notre Dame appena pubblicato da Newton Compton sono trecentocinquantadue pagine a soli euro nove e novanta quindi un vantaglioso prezzo si l'editore fa una buona politica perché insomma i tempi sono quelli che sono quindi venire incontro con un prezzo abbordabile è veramente qualcosa che io apprezzo tanto si è se ha sempre caratterizzato la sua politica di prezzi io mi sono sempre chiesto come faccia però si riesce Maurizio è molto semplice tutti quanti rinunciamo un po' a una parte del profitto e se tutti rinunciano alla fine si i conti tornano ecco è semplice non è non è complicato senti Barbara io ti ti ringrazio tantissimo rinnovo l'invito ad andare a comprarsi questo thriller storico scusatemi ambientato nel 1300 di Filippo il bello e Bonifacio ottavo e spero di riuscire a vederti un giorno in presenza e magari a presentarli perché la vivacità che tu metti nelle tue presentazioni è insuperabile grazie troppo buono no figurati grazie a te e a presto arrivederci grazie troppo buono no figurati 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 Grazie a tutti.